Ancora due anni per l'approvazione della carta di localizzazione del pericolo valanga, a tre anni dalla tragedia di Ricopiano, l'iter avviato nel lontano 1992 per la stesura del documento che avrebbe potuto salvare la vita a 29 persone e ancora lontano dal concludersi. La carta potrà sospendere nelle aree a rischio l'edificazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo. Inoltre potrà anche prescrivere l'immediata sospensione di ogni utilizzo delle opere e delle aree a rischio. Insomma potrà dare il via libera all'evacuazione, ciò che aveva insistentemente chiesto Gabriele D'Angelo, dipendente del resort, nel giorno della tragedia. Il documento sarà redatto dall'ATI guidata dall'ingegner Mauro Barberi, che ha vinto il bando da 700 mila euro. Riguarderà tutti i territori abruzzesi al di sopra dei mille metri sul livello del mare e con 25% dipendenza. Sarà pronta a marzo 2021, a quasi 30 anni da quando sarebbe dovuta essere promulgata, poi dovrà essere approvata da 184 comuni e dalla Giunta e dal Consiglio regionale. Nel 2015 era stata definita l'area di massima priorità, cioè quella di circa 7500 ettari, che comprende i prati di Tivo, gli impianti scistici di Campo Imperatore e tutto il versante aquilano del Gran Sasso. Poi il nulla, la pratica è scivolata nel dimenticatoio, fino ad essere bruscamente recuperata dopo due anni, quando cioè una valanga distrutto l'hotel Rigopiano, troppo tardi per le 29 vittime. Come accadde quella volta, la carta terrà conto anche della connessione tra le valanghe e gli eventi sismici. Il primo cittadino di città Sant'Angelo, Perazzetti, in quanto parte della commissione di quattro sindaci che rappresentano i comuni delle vittime del 18 gennaio 2017, torna a parlare dei rimborsi da elargire alle famiglie. Stiamo cercando di stilare quello che è un regolamento che possa regolamentare questa erogazione ai familiari delle vittime di Rigopiano, in maniera tale da poter sorreggere quelle che sono le spese che oggi loro stanno facendo. Di questa somma si parla da un anno, da quando Matteo Salvini, allora ministro dell'interno, in campagna elettorale aveva promesso 10 milioni alle famiglie. Al di là delle parole sprecate in due anni, noi portiamo aiuti concreti, 10 milioni di euro, che certo non riportano in vita nessuno, però danno una mano ad andare avanti e poi contiamo che la giustizia sia veloce, efficiente, rapida. Ma dei 10 milioni, benché un anno di governo giallo-verde, benché la Lega sia il primo partito in Abruzzo, finora non ce n'è ancora traccia. E a questo riguardo nessun segnale giunto nemmeno dal nuovo governo giallo-rosso.